Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Diverse settimane fa è stato pubblicato da Lorenzo Ran Fanelli un post sulla pagina Facebook di Keyforge Italia, link in descrizione, dove si presentava il nuovo kit incentrato sulla casata dei ladri e farabutti del crogiolo, valevole per la stagione competitiva locale. Ebbene, vedendo che il contenuto di questo articolo ha suscitato un forte interesse nella community per ovvi motivi che tratteremo fra poco, ho chiesto a diversi forgiatori se avessero delle novità a riguardo. E alla fine sono giunto tramite Omar o Mario Zammicheli, che ringrazio infinitamente, ad arrivare a Luca Chieli, proprietario dell'Emporio 45 Model. Troverete il link alla pagina Facebook sempre in descrizione. Ed è stato proprio quest'ultimo che mi ha inviato direttamente a casa il protagonista di questo video. Prima di iniziare, volevo avvisarvi che in collaborazione con Damiano De Prosperis, in arte Dammat, per chi non lo conoscesse, è uno dei giocatori italiani più forti e promettenti nel palcoscenico internazionale competitivo verso la metà di gennaio, si terrà un torneo completamente gratuito dedicato esclusivamente a tutti i principianti del gioco, dove questi ultimi verranno affiancati da coach esperti che li guideranno attraverso le dinamiche di gioco mostrandogli passo dopo passo le varie sfaccettature che ogni unico ha da offrirgli. Per maggiori informazioni vi lascio il link in descrizione del post pubblicato proprio da Dammat sulla pagina Facebook di Keyforge Italia. Tornando a noi, scopriamo assieme cosa contiene il kit dedicato alla casata ombre. Andiamo a dargli un'occhiata. La scatola, che ha un colore di fondo totalmente nero che contiene tutti gli articoli, raffigura sulle due parti frontali Deuszilla di casa Repubblica Sauriana e di eroina ardimentosa di casa Sanctum, e la scritta del gioco che campeggia sovrana sotto la parte inferiore delle immagini che ritraggono i servitori presenti sul crogiolo e sul retro. Maggiore in dimensioni rispetto ai suoi predecessori, sempre brandizzati dal nostro gioco di mazzi unici al mondo, questo contenitore di cartone con la classica apertura d'incastro che contraddistingue questi prodotti, potrà essere utilizzato per alloggiare fino a 39 deck senza bustina, essendo utile ad ogni forgiatore come magazzino di stoccaggio per i mazzi che non utilizza. Mentre parlando dei contenitori, sempre di questa specie ma dei kit precedenti, allora si potranno custodire 32 unici al loro interno. Entrambi hanno comunque una doppia funzionalità, dato che possono essere utilizzati anche per accogliere playmat e accessori vari. Per averne qualcuno a disposizione chiedete al vostro commerciante di fiducia, così da avere tutta la vostra collezione al sicuro e protetta dai fattori esterni che potrebbero eventualmente danneggiarla. Il primo articolo che voglio trattare è la presenza del segna vincoli di materiale duro da montare, simile a quello di Casata Federazione Stellare per il Prime Championship 2020 e a quello di Casata Dis, ottenibile dal kit per la stagione 1 sempre del 2020. Li troverete in una scatola bianca che al suo interno ha due bustine con chiusura a pressione che contengono le nove unità di cartone sagomato del prodotto che stiamo trattando e altrettanti perni di colore nero per unire le due parti che infine formeranno il tracker. I due medaglioni, uno con taglio a stella e l'altro completamente rotondo con la tipica finestrella per tenere conto delle penalità di dimensioni leggermente diverse che formano il chain, hanno rispettivamente il più grande un'immagine indicativa di una catena con le cifre finali dell'anno di riferimento sul retro e il numero di vincoli con rispettive sanzioni sul fronte. E il più piccolo, sulle sue due facce, mostra l'immagine della miglioria a corridore del crepuscolo su una e del servitore Mac il coltello sull'altra. Potrete durante il montaggio selezionare quale delle due stabilire come preferita per avere, a scelta, due versioni diverse dello stesso accessorio. Secondo articolo è la presenza di 5 deck box avvolti da uno strato di cellophane protettivo che, a differenza dei segnavincoli, hanno l'immagine del servitore stalattite sul fronte che ha ai suoi piedi le cifre finali dell'anno di appartenenza del kit e del corridore del crepuscolo sul retro, con il logo della Gamegenic in basso a sinistra. Nella parte alta invece troviamo il logo del gioco e nella parte inferiore le informazioni di fabbricazione, l'indirizzo, le policy e il sito web della casa produttrice. Ma la cosa che più colpisce di questo prodotto è che personalmente mi ha sorpreso quando l'ho visto, a tal punto da esclamare un sonoro wow, e che a differenza dei suoi predecessori che sono fatti tutti di cartone, questo è costituito dallo stesso materiale di un altro portamazzo singolo venduto dalla stessa casa. Costruito in polipropilene satinato, il deck box che troverete nel kit è a tutti gli effetti un Aries deck box, ma con disegni sicuramente più caratterizzanti e contraddistintivi di elementi presenti in gioco. Le peculiarità sono infatti le stesse, sia per uno che per l'altro è presente il coperchio autobloccante. Sono entrambi capaci di contenere un unico con doppia bustina. Sarà facile rimuovere o inserire il proprio deck grazie alla loro struttura. Hanno la tecnologia Cobra Neck che permette un'apertura del coperchio ribaltabile fino a 180 gradi e non contengono acidi o PVC. Questo articolo sicuramente rappresenta una vera e propria sorpresa per ogni forgiatore che era abituato a questa tipologia di prodotti. Ed è proprio per questo che ci sono rimasto piacevolmente stupito. Di certo se continueranno su questa strada non escludo che nei prossimi kit potremo trovarci gradite sorprese che coinvolgeranno sempre più giocatori a voler visitare le sconfinate lande del crogiolo. Il terzo prodotto è rappresentato dalla coppia di Playmat che, a differenza dei due articoli di cui abbiamo già parlato, hanno soltanto l'immagine del corridore del crepuscolo che torreggia in primo piano. Con una base di gomma di alta qualità e antiscivolo, il tappetino, oltre all'originale illustrazione di Matt Zillinger, presenta il logo del gioco in alto a sinistra e il marchio della FFG, quello della Unique Games, le ultime cifre dell'anno di appartenenza del kit e la posizione che bisogna raggiungere per riuscire a portarsi a casa questo splendido accessorio in basso a destra. I colori, l'artwork di un disegnatore che ha dato vita anche a carte come l'archivista di Ganymede, analista Vaylan e il predone Ixili, al quale è stato dedicato il primo Playmat della stagione competitiva di Keyforge, fa sì che questo tappetino sia uno dei più belli, secondo un parere strettamente personale, sia chiaro che io abbia mai visto. Il quarto ed ultimo articolo, che è poi quello più atteso da molti forgiatori, è la presenza della prima action figure mai creata per questo gioco. Collocata in una scatola di cartone bianco, con il logo del gioco, quello della Fantasy Flight Games e della Happy Worker che l'ha creata, la statuetta viene assicurata da un involucro ad incastro di plastica che la tiene ferma e al sicuro. Alla base dello stesso c'è un piccolo alloggio dove potrà essere estratta con tutta facilità la chiave blu, icono inconfondibile di Keyforge che sarà come sempre forgiata da un lato e ancora da forgiare dall'altro. Una volta che anche la statuetta verrà tolta dall'alloggio, si potrà ammirare la cura nel dettaglio che è stata prestata alla realizzazione di questo pezzo unico. Dopodiché potrete posizionare la stessa direttamente sulla chiave, che fungerà come base per una migliore esposizione visiva. Questa piccola opera d'arte è davvero un fiore all'occhiello di questo kit e sarà assegnata ad un solo giocatore. Questo sta a significare che soltanto pochi avranno la fortuna di averla in possesso, rendendo quindi questa statuetta un vero e proprio oggetto da collezione. Ma una volta vinta e messa in esposizione, sempre se si voglia mostrarla, non si rischia che polvere sporco possano rovinarla? Come si può evitare di esporla a danni esterni godendo comunque della sua bellezza? Nessuna paura, c'è una soluzione anche per questo. In un qualunque GameStop della vostra città, infatti, dovrebbero, nella sezione dei Funko Pop, avere disponibile per la vendita il Glowbox della Biogenic. Questo involucro fungerà da ottimo case protettivo per la statuetta, consentendo a chi l'ha vinta di metterla in bella vista come e quando vuole, senza preoccuparsi ovviamente dell'usura proveniente da fattori esterni. In più, se si vorrà, durante le ore buie, dato che la custodia sarà alimentata da tre pile stilo tipo AA, si potrà illuminare l'intera struttura attraverso dei LED, mostrando anche nelle ore più buie il suo contenuto. Di questo prodotto ce ne sono diversi tipi, a colore singolo come questo, dal costo indicativo di 9 euro, multicolore dal costo indicativo di 15 euro e multicolore con base rotante dal costo indicativo anch'esso di 15 euro. Per tutti e tre vi lascerò il link in descrizione, così da poter scegliere quello che vi piacerà di più. Conclusioni Il kit dedicato alla casata ombre sicuramente non è come i tradizionali equipaggiamenti che di solito si trovano in un torneo. La presenza di articoli come il portamazzo in polipropilene, il playmat che illustra una delle immagini, a mio parere, meglio riuscite per il nostro gioco di mazzi unici al mondo e la presenza della prima statuetta mai creata per Keyforge, offre in maniera del tutto certa al forgiatore un'esperienza di gioco nuova, soprattutto se si parla di tornei locali. Infatti, per alcuni giocatori, conquistare la vittoria e portarsi a casa, oltre ad un folto corredo di premi, anche l'action figure rappresenterà il raggiungimento ultimo di ogni obiettivo nell'evento al quale sta partecipando, che esso sia un torneo o la leaderboard. L'obiettivo primario è investire nel gioco aumentando il valore dei premi. Questo è un segnale forte che la Asmodi o la FFG o chi per loro sta lanciando al mercato. Devo dirvi la sacrosanta verità. Sapevo che questo pacchetto serbasse qualcosa di speciale, ma non credevo che fosse così ricco di novità. Ripeto ancora una volta che ne sono rimasto piacevolmente colpito e non mi stupirebbe affatto, quando il periodo che stiamo attraversando cesserà, di vedere molti giocatori battersi a suon di chiavi forgiate per raggiungere la vetta e accaperrarsi ovviamente il riconoscimento più ambito. Se vorrete sapere in un torneo come si svolgerà la griglia dei premi, per iniziare perché no a farvi qualche idea, vi lascerò in descrizione tutte le informazioni utili per rispondere a questa domanda. Infine saranno disponibili anche dei segnalini ambra, protezione, stordito, adierato ed aumento forza, assieme naturalmente alle tre chiavi con il simbolo della casata ombre, che però verranno venduti separatamente e non all'interno dello stesso kit. Per questi articoli sarà a discrezione e sempre del venditore assegnarli a chi si vuole, magari attraverso un evento o donandoli ai nuovi giocatori per dargli una base di partenza pronta per affrontare ogni partita. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa e se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video e buon Natale!